Il CONI decide di rinviare la decisione sulla Serie B a 19, a 22 o addirittura come qualcuno paventa 24 squadre alla prossima settimana tra lunedì e martedì, ma in Serie C non ci saranno ulteriori slittamenti del campionato come invece si era temuto nella serata di venerdì. Lo dice il presidente Gravina, intervistato a TuttoC.com. Subito dopo, dice la decisione del Collegio di garanzia sui ripescaggi, creeremo gironi e calendari. Se ci saranno 4-5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all'inizio della prossima settimana, faremo partire il campionato nel prossimo weekend tra il 15 e più probabilmente il 16, altrimenti il primo turno slitterà forse in notturna tra martedì 18 e mercoledì 19. Non esclude Gravina che in caso di accoppiamenti favorevoli geografici e col piano spirito collaborativo delle società di avere alcune gare già di domenica 16 e altre nei 2-3 giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend 22-23 settembre si possa tenere la seconda giornata di campionato. Non c'è più tempo per ulteriori rinvii. Dunque ogni squadra conoscerà con pochissimo anticipo la destinazione dell'eventuale trasferta. Il CONI invece una decisione la presa e riguarda il calcio femminile Serie A e Serie B andranno direttamente nel mondo professionistico sotto legida della FIGC. Dunque ufficialmente anche l'Arezzo calcio femminile entra nel professionismo. Quello che è successo ieri è da considerarsi un traguardo storico per il calcio femminile italiano, spiega la presidente dell'Arezzo Chiara Tavanti. Siamo davvero entusiasti della sentenza emessa dal CONI e spero che questo sia solo il punto di partenza per un ulteriore sviluppo del movimento a livello nazionale.